È stato identificato dopo ore l'uomo vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi nei pressi del ponte di Pratantico, frazione alle porte di Arezzo. L'uomo era stato investito e ucciso da un'auto intorno all'1,25. Sul posto erano intervenute un'ambulanza della misericordia di Arezzo e un'automedica, ma la vittima non aveva mai risposto alle manovre di rianimazione. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al volante dell'auto una persona di mezza età che si era subito fermata insieme ad altre persone aveva allertato i soccorsi. La vittima era senza documenti, difficile quindi la sua identificazione. L'uomo aveva però con sé un telefono ma sarebbe andato distrutto nell'impatto con l'auto. La polizia stradale ha così raccolto tutti gli indizi possibili e dopo ore di lavoro è riuscita ad avere le prime conferme. Si tratta di un sessantenne residente ad Arezzo ma non originario del nostro territorio. Adesso gli inquirenti stanno cercando di contattare i familiari che non vivono in provincia di Arezzo.